Perché le persone, gli uomini chiave, lasciano le aziende. Perché non si sentono valorizzati secondo i loro parametri. Guadagnano di meno di quello che pensano di valere. Questo è quello che dicono molti uomini chiave. Molti uomini chiave non si sentono di guadagnare quello che valgono. Perché noi imprenditori non raccontiamo il loro film e la loro parte nel film e quindi non diamo prospettiva al rapporto e tranquillità. La comunicazione che noi imprenditori facciamo nei confronti degli uomini chiave è poco calibrata, poco personalizzata e non abbiamo sufficienti lodi e attenzioni per loro.